Oggi sono a Nuova Vuta, un quartiere creato dagli ex comunisti nel 1949, voluto esclusivamente da loro per far sì che circa 28-30 mila operai potessero abitare qui nella nuova fabbrica di metalmeccanica, siderologica. Grazie per la visione! Grazie per la visione! Grazie per la visione! Grazie per la visione!